Continuano al Palatenda Partenope di Fuorigrotta i provini per il musical Carosone. Questa mattina tantissimi napoletani che si sono cimentati sul palco davanti alla giuria per interpretare il ruolo di Fred Buscaglione. I brani più simpatici e quelli più noti della cultura musicale napoletana sono stati rivisitati da tantissimi ragazzi che cercano di far parte di questo storico musical. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il giornalista Federico Vacalebre che ci spiega quali sono i caratteri distintivi che deve avere Buscaglione per salire sul palco del musical. Il nostro musical su Carosone, questa è la parte che tutti ci chiedono, è che c'ha pizza. Buscaglione e Carosone hanno rinnovato la canzone italiana e nel giro di un semestre Carosone si è ritirato, Buscaglione è morto e anche Modugno che era il terzo dei rinnovatori da volare è tornato alla melassa sanremese con Ciao Ciao Bambina. Buscaglione e Carosone, uno a Napoli, uno a Torino, uno con il pianoforte, l'altro con il violino, uno con le maruzelle, l'altro con le mammifere 103, le ragazze piccole così ma in realtà protagoniste di Criminal Song. avevano messo in scena una canzone diversa, ironica, armata di jazz, di sorriso, sceneggiata.